Manca poco per l'ala sinistra. Sembrerebbe ormai vicino al Catania Davide Marsura, ala sinistra 29enne, svincolato dopo la sua ultima esperienza con l'Ascoli in Serie B, dove ha collezionato 4 gole e 2 assist in 24 presenze. Il giocatore che fa proprio il caso del Catania, ala sinistra dal fisico longilineo, può giocare su tutto il fronte offensivo. Pur essendo bravo con entrambi i piedi, predilige l'uso del destro, soprattutto per accentrarsi, partendo dalla fascia opposta. Elegante nella corsa, dispone di una grande accelerazione palla al piede, oltre a essere abile nel dribbling, nella finalizzazione e nei calci piazzati. Dà il meglio di sé quando si trova in campo aperto ed è anche in grado di creare occasioni da gol per i compagni. Grazie alla buona visione di gioco, secondo le sue caratteristiche, essendo un giocatore tuttile, per Mr. Tabbiani potrebbe significare una valida pedina da posizionare sulla destra, così da far rifiatare Chirico e compagni. Adesso l'ultimo nodo da sciogliere, il capitolo prima punta, che andrebbe a completare una rosa pronta per la Serie C.